buongiorno buongiorno da onda rigina apertura ogni tanto come si suol dire una buona notizia torna il mercato di quartiere a Sulmona gli agricoltori sfidano il covid l'intera emergenza pandemica con la filiera corta sentiamo tutto nel nostro servizio ci sono i formaggi stagionali le verdure il miele la produzione è propria tutti i prodotti genuini a chilometro zero dal produttore al consumatore del partito sotto i buoni auspici il mercato di quartiere in via Eugenio Montale riattivato questa mattina grazie alla col diretti a campagna amica l'amministrazione comunale di Sulmona con il vice sindaco Marina Bianco un bellissimo segnale una piccola luce in fondo al tunnel che arriva proprio nel tempo dell'emergenza pandemica per dar modo a circa otto esercendi ambulanti che sono scesi strada questa mattina di rimettersi in carreggiata ma un'occasione un'opportunità anche per l'utenza per un perfetto luogo d'incontro trasparente tra produttore e consumatore in questo quartiere della città è il primo passo per riattivare i cosiddetti mercati rionali anche in altre zone del capoluogo Peligno un piccolo spiraglio di luci in questo momento un po' particolare che stiamo vivendo ormai da un anno torna il mercato dopo sei mesi e con tutte le restrizioni che ci sono state del covid quindi abbiamo aggiornato tutti i protocolli eccetera è molto importante perché si va proprio all'interno della città dove sono presenti le aziende locali e non comunque sono aziende abruzzese, aziende italiane dove c'è la possibilità di acquistare prodotto a chilometro zero quindi direttamente dal produttore al consumatore è un vantaggio per chi vende che ha la possibilità di avere rapporto con il consumatore soprattutto con i consumatori che hanno la possibilità di acquistare un prodotto eccellente, un prodotto italiano e valorizzare il territorio dove si trovano questo di oggi è l'inizio di un percorso dettato dall'esigenza di dare la possibilità economica agli imprenditori di esporre i loro prodotti e di venderli ai consumatori ad un giusto prezzo che potranno acquistare questi ultimi l'auspicio è quello di creare sempre di più piccole occasioni di incontro tra produttori e consumatori per una filiera giusta e corretta è stato richiesto dagli abitanti del quartiere in sicurezza chiaramente perché siamo all'aperto ed è un modo per rivitalizzare anche questa zona un po' più fuori dal centro storico un piccolo segnale, un piccolo segnale nella mia volontà c'è anche di implementare questo tipo di realtà utilizzando altre zone meno affollate della città anche per rivitalizzare quelle zone che risentono di un minor flusso di persone Per i vertici della Coldiretti Provinciale e per gli stessi agricoltori questa inaugurazione insomma ha il sapore della speranza nonostante l'effetto drammatico dell'emergenza sull'intera filiera corta il mercato è partito sotto i buoni auspici anche con la benedizione del Vescovo Diocesano, Monsignor Michele Fusco intervenuto nella raccolta cerimonia di inaugurazione Il nome del padre, del figlio e dello spirito santo Buon lavoro a voi Il nome del padre, del figlio e dello spirito santo Finalmente si riparte questa mattina Siamo pronti? Sì, siamo pronti Speriamo che sia un buon inizio per tutti e che ci dia la forza per andare avanti in questo periodo un po' particolare Dopo tanto per fortuna si ricomincia, sì, era quasi ora dopo tutta questa pandemia insomma questo brutto periodo E' una filiera perfetta per l'incontro tra produttore e consumatore quindi dovrebbe essere questo diciamo il luogo ideale Idealissimo penso, sì, anche perché hanno chiesto, hanno già fatto i migliori complimenti insomma per i prodotti, perché mancava soprattutto il mercato di martedì qui a Sulmona Per me fa piacere partecipare anche perché è il primo anno quindi spero di soddisfare la clientela con un prodotto ottimo e di produzione propria Finalmente si ricominciamo dopo tanti mesi appunto di rimandi e siamo entusiasti nonostante il periodo sia un po' incerto appunto ma speriamo bene prossimamente insomma pian piano dal produttore al consumatore direttamente ci mettiamo la faccia e il prodotto direttamente appunto e speriamo appunto pian piano si riprenda e sia appunto una buona piazza anche per i clienti stessi che ritrovano un po' il chilometro zero del locale a portare di mano insomma E ora torniamo a noi, torniamo alla sanità con l'odissea che continua a Scanno per il medico in pensione ci vogliono fino a sei ore di attesa per una semplice ricetta incredibile, ma vero Infila fuori a poliambulatorio, al freddo, al gelo per ritirare una ricetta, ci vogliono fino a sei ore di attesa accade a Scanno, il centro della valle del Sagittario dove la sanità continua a fare acqua da tutte le parti in particolare dove il pensionamento del medico di base e la dottoressa Di Rienzo i disagi continuano per l'utenza, costretta a rivolgersi al medico di Villalago o a Sulmona una situazione che ha spinto l'ex primo cittadino e commissario della comunità montana e Ostachio Gentile a scrivere ai vertici dell'ASL1 che hanno avviato le procedure per il reclutamento del sostituto Non so se voi tutti siete a conoscenza dei gravissimi, pericolosissimi disagi ai quali state costringendo i cittadini di Scanno scrive Gentile all'azienda sanitaria a dover far fronte per poter accedere a un servizio costituzionalmente garantito Mi sembrano del tutto normale lunghissime file di ore e ore fino a sei ore sotto il freddo la neve che si formano presso il polo ambulatorio di Scanno dove a sede lo studio della dottoressa Mininni con tutti i rischi che ciò comporti anche per le vedemie in corso si chiede l'ex sindaco commissario che riprende Sono anni che mi batto per contribuire a migliorare un servizio primario per le popolazioni montane avanzando sempre precise proposte anche in riferimento a servizio del 118 Sono anni che invio lettere proposte all'attuale e precedente governo regionale ma non ho mai ricevuto riscontri positivi in merito Ho chiesto ripetutamente per esempio i motivi per i quali non si è stata più rinnovata la parte dell'ASL la convenzione con lo storico gruppo dei volontari della Croce Rossa di Scanno già dotato di un'ambulanza non medicalizzata per continuare a effettuare un servizio molto apprezzato dei cittadini che è andato avanti per circa 30 anni svolto sempre in termini efficienti, efficaci ed economici ma purtroppo interrotto ispiegabilmente un servizio che poteva continuare a essere complementare a quello del 118 come lo è sempre stato fino a quando esso non sarà se lo sarà reso H24 questioni in queste riportate in molte delle lettere alle quali non ho mai ricevuto risposte Insomma Gentile non si rassegna e interroga l'ASL sui problemi vecchi e nuovi della sanità del centro montano Fra ritardi, disagi, imbarazzo ieri è andato in scena sulla tratta ferroviaria Roma-Pescara il cosiddetto viaggio della speranza sentiamo il perché nel nostro servizio Ritardi, coincidenze sui bus, momenti di fibrillazione più che una normale corsa quello di ieri per i passeggeri della tratta ferroviaria Roma-Pescara è stato un vero e proprio viaggio della speranza la corsa è partita alle 14.20 da Roma l'arrivo nella stazione di Pescara Centrale era previsto alle 17.50 ma lungo il percorso non sono mancati intoppi e fuori programma che hanno creato una catena di disagi per il personale a bordo per gli stessi passeggeri alcuni dei quali studenti e lavoratori che hanno perso le coincidenze per arrivare in tempo nei rispettivi luoghi di destinazione in particolare la circolazione ferroviaria è stata sospesa all'altezza di Carsoli per un treno fermo sui binari si è quindi proceduto l'attivazione dei bus sostitutivi per proseguire la corsa verso Pescara tenendo conto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 ma si sa che la circolazione stradale ha i suoi tempi per questo i ritardi si sono accumulati a tutto svantaggio dell'utenza fortuna che c'era il capotreno che ha richiesto un terzo bus per venire incontro alle nostre istanze e a secondare per quanto possibile le esigenze di tutti raccontano alcuni passeggeri pelini che si trovavano sul cosiddetto treno della Speranza un viaggio sicuramente da ricordare che fa il paio con altre segnalazioni di disguidi e ritardi sempre nell'ultima settimana che si sarebbero verificati sulla stessa pratta ferroviaria arriviamo alla cronaca giudiziaria per il chiosco tra presunte lesioni e minacce sono stati assolti due imputati sentiamo i particolari nel nostro servizio per il giudice monocratico del Tribunale di Sulmona non sussistono né le lesioni né le minacce né tantomeno la violenza privata ieri mattina è andata bene entrambi gli imputati AF e LL usciti assolti nel secondo le tre procedimenti penali scaturiti dalla cherelle per la locazione di un chiosco collocato in città più volte balzato alle cronache anche per altre vicende i fatti risalgono al biegno 2014-2015 quando il conduttore dell'attività LL si recò nell'abitazione del locatore AF per chiedergli di regolarizzare le rispettive posizioni davanti agli uomini del commissariato Repubblica Sicurezza di Sulmona un incontro che ha avuto un seguito in tribunale con le accuse reciproche che hanno trovato spazio nel capo di imputazione il locatore ha accusato LL di averlo picchiato malmenato di averlo costretto a entrare con forza in macchina per recarsi negli uffici del commissariato di via Sallustio da qui l'imputazione per lesioni e violenza privata con tanto di referto medico del pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona che certifica le lesioni seppur di qualche giorno cagionate a causa di escoriazioni sulla tempia il locatore è finito invece davanti al giudice per minaccia per aver pronunciato frasi del tipo questa mossa me la paghi cara tanto di aver intimorito l'altro sulmonese per entrambi Castello Accusatorio non ha trovato riscontri tant'è che il giudice ha pronunciato la sentenza di assoluzione per insufficienza delle risultanze probatorie ovvero carenza di prove tra i due litiganti questa volta godono entrambi un bel pari e patta verrebbe da dire nel gergo economico se non fosse che a marzo si riscuderà il terzo e ultimo processo a carico del locatore per il reato di danneggiamenti non finisce qui intanto spunta un'altra siringa in strada fra degrado fra preoccupazione e il caso come ci hanno detto nella nostra segnalazione di tenere gli occhi ben aperti sulla città siringa lasciata in bella mostra in mezzo alla strada e l'impietoso quadro che arriva dalla zona Peppe il guardia generale del capologo Peligno che balza ancora una volta alle cronache tra degrado e preoccupazione ed è così che facendo quattro passi fuori dalle mura antiche del centro storico capita anche questo in un pomeriggio qualunque in piena emergenza pandemica dove alcune abitudini con tanto di virgolette ovviamente sono a quanto pare irrinunciabili non si è la certezza se quella siringa sia stata utilizzata o meno ma certo non è una bella immagine per la città né rassicura sulla repressione di un fenomeno che resta molto diffuso sul territorio a giudicare anche dalle ultime inchieste condotte da magistratura e forze dell'ordine ovvero il blitz antidroga all'inizio dell'anno con due arresti e quello della scorsa settimana con i tre marocchini arrestati nei pressi del casello autostradale entrambi rimessi in libertà la segnalazione è arrivata dei residenti della zona che non hanno tollerato l'ennesima scena di degrado tra rifiuti e sporcizia questa volta è spuntata anche una siringa come era accaduto nei mesi scorsi in una traversa di corso video quanto basta per interrogarsi e tenere gli occhi aperti sulla città e ancora torniamo a parlare dello sportello psicologico perché è stato attivato il numero unico per chiedere aiuto alla rete di psicologi in campo in questo periodo di emergenza pandemica si sa che ci sono anche dei risvolti umani dei risvolti proprio di tipo psicologico sentiamo tutto nel nostro servizio lo avevamo anticipato nella giornata di ieri dopo l'intervista alla delegata dell'ordine degli psicologi detto fatto il numero per le richieste d'aiuto e supporto psicologico in tempo di pandemia è stato attivato da questa mattina chi desidera assistenza psicologica oggi è ancora più facilitato perché potrà contattare un unico numero telefonico 335 10 99 436 dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 18 entrare in contatto con i professionisti psicologi che volontariamente gratuitamente potranno offrire il loro supporto l'operatore addetto assicurerà che lo specialista psicologo in turno contatti direttamente l'utente che richiede assistenza e in effetti le persone sono meno diciamo propense a chiedere aiuto infatti proprio in questi giorni cercheremo di riorganizzarci in modo da favorire cioè mettere in campo delle azioni che possano favorire l'avvicinarsi e quindi la richiesta di aiuto perché questo è un dato sì che c'è il sindaco Casini ne ringrazia Alessandra Cottone la delegata da presidente dell'ordine sul territorio e la dottoressa Roberta Romanelli dell'ufficio di piano del comune di Sulmuna rimarca che con i protrarsi dello stato di emergenza sanitaria lo stress e il disagio conseguente all'isolamento sociale hanno determinato continuano a determinare molteplici difficoltà ai cittadini rispetto ai rischi legati alla malattia alla gestione dei cambiamenti nel contesto sociale ed economico oltre alle inevitabili conseguenze psicologiche date dal rispetto delle restrizioni alla libertà personale imposte dalla necessità di contenere la diffusione del virus da qui l'appello ai cittadini per usufruire di questo servizio che può dare un valido aiuto non solo per soggetti fragili ma per tutti quelli che si trovano in questo momento a vivere situazioni di disagio e ora andiamo sulle frequenze del Polo Fermi perché arriva Radio Iperbole ovvero la radio del Polo Scientifico Tecnologico Enrico Fermi i particolari nel nostro servizio di questa iniziativa davvero originale Un incontro tra le rappresentanze di genitori studenti docenti per ribadire i valori dello stare insieme sebbene a distanza e dell'impegno sociale e civile arriva Radio Iperbole la radio web del Polo Scientifico Tecnologico un veicolo di informazioni un luogo di dibattito scambio di opinioni un momento di pausa e di riflessione uno spazio ludico e ricreativo in cui esprimere la propria creatività in una città e un territorio in cui i momenti di aggregazione e condivisione sono ormai rari e quasi inesistenti i luoghi di incontro di discussione assenti per rilanciare la partecipazione attiva e l'incontro sociale e politico innanzitutto il nome e i loghi in continuità con l'esperienza del nostro giornale di istituto ben sintetizza il messaggio del nostro Polo armonizzare fondere cultura umanistica e scientifica rompere i cannoni del conformismo perbenista urlare al mondo i nostri sì i nostri no con temerarietà e autenticità fanno sapere dell'istituto spiegando che a breve sarà pubblicato un palinzesto e la programmazione delle attività gestite direttamente dagli studenti nella trasmissione di domani in cui si intitolerà la sala Pietro Mennea campione olimpionico freccia del sud ospiti illustri e il prezioso contributo musicale di Francesco Mammola e Antonella Bucci due glorie del territorio prima di chiudere vi ricordo anzi vi invito a visitare il sito internet della nostra emittente televisiva www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie e è vero tutto per questa edizione grazie per aver scelto Onda Le GIG che come di consueto torna questa sera alle 20 e 10 circa a tutti buon pomeriggio grazie a tutti per aver scelto